Ciao ragazzi, vi volevo avvisare che subito dopo le due partite che potrete vedere in questo episodio di Mortal Kombat ho messo anche degli spezzoni di altre partite che per motivi tempistici ovviamente non vi ho potuto portare sul canale e ho selezionato appunto gli spezzoni più divertenti nei quali magari mi arrabbio e quindi insomma vi invito a guardarli vi ricordo come sempre di lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentate, condividete ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale ok? Bella! Bentornati ragazzi sul canale di Jukie Next Gen, siamo tornati con Mortal Kombat X, siamo sempre in una modalità in stanze quindi contro un avversario con il quale io ho solo l'1% di possibilità di batterlo e io siccome sono ACAB del tutto e per questo lasciate subito un bel like, faccio anche la situazione casuale, non basta che lui mi distruggerà facilmente perché ho solo l'1% di possibilità, ma io scelgo anche casualmente e mi uscita Kitana che non vi voglio dire con cosa fa Rima siamo pronti a farci fare il culo da questo che vi ripeto ragazzi ho solo l'1% di possibilità, non mi ricordo un cazzo e infatti mi sta già distruggendo ecco qua ragazzi c'è praticamente, penso che mi batterà col perfect ah no, col perfect no, ho appena... guardate ragazzi sa usare benissimo Scorpion ecco mi ha già quasi battuto sì, mi ha già battuto ragazzi, non so il round è durato penso 15 secondi ok, gli ho tolto il perfect almeno ecco qua vediamo se riesco a fargli qualcosa di buono sì, ok ecco qua Kitana col suo ventaglio attenzione sa per usare sicuramente la mossa speciale ecco qua ecco l'ha sprecata, l'ha sprecata comunque sì ecco qua guardate Kitana ragazzi mamma mia lo sta avvenando Kitana ora si è incazzato mi vuole battere però ragazzi nel secondo match gli ho dato sicuramente fastidio vediamo se mi fa il fatality eccolo qua fatality eh sì fatality ragazzi è bellissimo ragazzi io amo i fatality di Mortal Kombat ok ragazzi eccoci qui giunti alla seconda sfida ho trovato un avversario con il 38% soltanto di possibilità di vittoria quindi comunque per il preso più forte io ho sempre ovviamente mi è capitato stavolta Keno mentre lui ha preso Kitana e infatti ragazzi la sa usare anche vedo ecco qua ragazzi non so cosa abbia Keno di specialità ah lui c'è la principessa Kitana che comunque non è male mi sta già facendo il culo ah infatti mi ha già praticamente battuto ormai sì ok ragazzi lo so sono un noob totale su questo gioco ma ragazzi gioco pochissimo quindi è un gioco Mortal Kombat diventato molto molto difficile ci vuole molto più allenamento che in passato è diventato molto più complicato giocare qui eh gli ho fatto sprecare la mossa ecco qua attenzione nooo attenzione ragazzi pareggio uno pari dottor Keno ragazzi ecco qua attenzione ancora Keno attenzione ancora Keno ecco qua ecco qua super non la paghi non la paghi comunque per questo che mi hai fatto attenzione ragazzi non c'ho la mossa speciale quindi eh va bene comunque ragazzi ok si conclude il mio video con almeno una vittoria spero che il video vi sia piaciuto se avete qualche modalità qualcosa in particolare che volete vedere ditemelo ditemelo ok provate ad accontentarvi come sempre sotto i miei contatti lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale se non lo avete fatto ci vediamo al prossimo video ragazzi qui d'angelo nero 83 tutto bella di come gioca questo cioè guardate ragazzi io con questa gente non amo giocare cioè sinceramente ecco qua ragazzi ora ho imparato il salto e deve fare il salto ecco ragazzi guardate come mi aspetta cioè cioè ragazzi stava lì giù ad aspettarmi e fai questo cazzo di ghiaccio ma perché non fa niente ma che ti potesse venire un'ulcera questo cazzo di fuoco oh ma che cazzo e dai madonna no ma vaffanculo tua madre quella grandissima con la grandissima madre oh ma perché sei lento si vabbè ma non si può giocare in questa maniera però eh ma guarda quanto è bambino scemo ma ti rendi conto ma giochi sempre nella stessa maniera ma fai schifo al cazzo lo scontro secondo round è più equilibrato perché salti alla cazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti